Di sidi covati da tempo, rancori familiari mai chiariti, poi la lite, l'ennesima, questa volta degenerata in tragedia. Il cognato punta la pistola contro Antonino Salvatore di 42 anni, da fuoco più volte fino a dargli l'ultimo colpo di grazia. Poi si dilegua tentando di far sparire le proprie tracce. Una latitanza durata poche ore, l'assassinio, viene arrestato questa mattina con l'accusa di omicidio volontario dagli uomini dell'arma. Il fatto è accaduto ieri sera in località Fossatello, a Montebello Ionico, nel Regino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Melito Portosalvo e i colleghi della stazione di Saline Ioniche, che coordinati dal capitano Cascone, dal tenente Corigliano e dal maresciallo Micale, hanno effettuato i rilievi del caso, tentando di risalire al movente di un delitto che sembra riconducibile a dissapori di natura familiare. Grazie a tutti.